Musica Un 26enne di nazionalità senegalese è stato investito ed è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un'auto in transito sulla strada statale 106 in contrada Santirene a Corigliano Rossano. L'impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri. Una piantagione di marijuana con 2.190 arbusti di dimensioni di oltre due metri è stata scoperta e sequestrata alla mezzaterme dalla Guardia di Finanza che ha arrestato e posto domiciliare un cittadino italiano. La ragazza lo lascia e i parenti organizzano una spedizione punitiva contro il padre e il fratello della donna, 11 le persone arrestate dai carabinieri a Crotone. La Calabria dovrà attendere ancora due settimane per poter passare in zona bianca ma intanto dalla serata di ieri si accorcia il coprifuoco. Scatta infatti lo slittamento dalle 23 a mezzanotte. Buonanotte.